Giorgio mi lascia la minicon e ti lascio l'hide drop Spazzolata perché ho detto mulinello Giorgio andiamo alla grotta Da me vengono un sacco di play Vengono un sacco di play Albert tu che vuoi c'è chi non hai drop Io io scagola Alberto se ci senti fa un ballo Ma come fa fare un ballo se sto in cielo? Alberto Che vuoi? Che mi sento? Albi vuoi il cecchino o l'hide drop? Alberto E io l'hide drop Bene Dè ma io tengo pompa e mitraglietta le uniche due armi che non volevo Perché volevo un fucile d'assalto Perché ho capito che è buona? No Perché c'è tutti i boss? Perché c'entrano i boss se ci sono raqui Rappi, ho bisogno di giochi a scalare, non so come, a me ci sono solo due player. Edda, no, no, guardè, molto. Ragazzi, non è il pelicolo. Ragazzi, la richieda, ragazzi andate a prendere la chieda. Ragazzi, la richieda, ragazzi, la richieda, troppo scade. Siamo 30 secondi. Giorgio, guarda che noi teniamo meno vita della tua scheda, sapilo. E vabbè io non tengo armi da vicino C'è da vicino, da lontano Albini devi uccidere te, io non posso fare amico Sono devastato Albini ma tu dove cavolo sei? Dai sei Vieni da me Eppure da me ci sono player Ma da te nabbi al 99% Papi fermo 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 Albini devi fare Alberto tengo due di vita E noi siamo registri Voi stai registrando? Sì Alberto ti stai fermo? E' salito brutus dal nulla Guarda Albini brutus già ti ha calma di valire Questa mamma di valore Vabbè non lo stai registrando Vedi? Eh sì E dimmi lascia la minigame Lasciami la minigame Io la sto bloccando Ehi Grande brocchi Uccidilo No Ma va bene Ma c'è una squadra in zero Oltre che due negli Ma la squadra di Federico C'è la scheda di Di Giorgio Uccidilo 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 No No Non c'è uno scagnozzo Albi Albi Tengo due di vita Albi perché Ti scopri Se c'è solo uno scagnozzo Non c'è mai Ti sposti Fermo Un attimo Un attimo Un attimo Ma che stai scegli Giorgio Mamma Leva Mamma Tu Albi Lo stagnozzo Vai avanti Stai facendo Sì Albi Mi puoi restare Per favore Ma ti prende Dove mi butti Ma moriamo di safe Alberto Oh Infatti Sì Ma morite Morite Sì Fede Non portare Spurche Perché Dobbiamo andare Verso Foresta E' E' Già Qua c'è L'aria Albi Ma io Te Ambo La Guardo Ah Albi Io Ambo La Guardo E' Andiamo Ehi Ma chi è che sta ancora andando sempre questi scagnozzi E' lui E' lui con il nabo E' il nabo E' il nabo Ok Sennò Vole anch'io Vabbè Alberto Credo A tenere tutto quel coso Là Ciao Balla Alberto Ciao Ciao Buca dalla guardia Jack Mi ha colpito Porchio Fare una vita Stavi Io devo prendere l'elicottero Ma che elico Ma che pensi all'elicottero Devi prendere il prato Non è giustamente cacciolato No Stai Tanto tengo un medikit Eh lo so E' il nabo Dai Fuga Fuca 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 No Perdo di vita Per provare il microfono Oh No Ma che Ma quindi te non fai video con noi Ah La mettiamo il live Semmai No 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 Siamo conoscendo Pau Sì 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 Però forse la mettiamo No no Perché Albi andiamo al pozzo Sì 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 Albi andiamo al pozzo Mi faccio un attimo il falò No No Ma che Mi faccio un attimo il falò Che stai facendo? Devo avermi il falò Lo vuoi capire? Ok Dai Dai no tanto la perdiamo di più di vita andiamo al posto perché sei morto perché ha aperto la mappa e l'apro non muro il tasso non mi cambia di scuola ma a me non mi fa solda con l'accia tasso qui siamo? dove siamo? il primo il primo il primo è devastato sto nabò che sono? mi cambiano le impostazioni sta lì ma dai non è lasciato vivo dove è? io ho una e in totale ne abbiamo una io devo trovare un po' di shield anche tu albi ah io l'ho a te ti faccio dove c'è? dove c'è? dove c'è? dove c'è? dove c'è? e per te non l'hai Alberto ti prego ti prego un po' di shield shield quindi non è sceglia ahahah 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 non si trova mai state tranquilla ha detto però se le fai le live dincelo guarda che stai live e ti sentono ahahah ma non la metti in sicile oh perché? perché non la dovrebbero mettere? allora prima c'è perché parliamo anche degli scemi e come dobbiamo parlare? e poi siamo tutti morti cioè voi due non cadono e oggi siamo morti e intanto non siamo tutti morti quindi guarda il peschio ahahah ahahah il video è bloccato vedete io di nuovo lo ho bloccato vedete albis peccato che non potevi cadere sennò ti facevo cadere ehm e grande però skin si mi metto ehm perché è riuscita vuole così mi cambia skin ti capito io sono brutus e non ho paura di fare la sua minima non ho scherzo e albimmi devo fare lo scarulato ti metto una skin mia, la mia prima skin Vieni Vieni No Ma che è? Ah si ho capito Tuo skin default No Qual è stata la tua prima skin? Ma che vuoi non è stata la tua prima skin? Ho capito ma sembra default C'era default No te la volevo schillare Avete visto? Botto lo Jack Ma io che scacchio sto facendo? Avete visto che skin mi sono messo? Si io lo so quale era Io pure quella leggendaria Quindi Che poi era di un pack che ti regalavano Quando ti prendi Era di un pack quando ti prendevi Fortnite Vi te la tavola Te la tavola? No No la sciopata Eh ma Perché devo farmi la scarretta? Hai messo un codice Hai messo un codice Hai messo un codice Hai messo un codice che poi ti ha dato quella skin Il mio amico me l'ha presa Appunto Appunto Col ballo Il mio amico Il mio amico Il mio amico mi ha presa con me. Tenevano tipo, una teneva tipo due di vita. Oh, wow, per poco. Oh, per poco. Per poco.